La pioggia caduta abbondante in tutta la provincia di Agrigento ha messo in evidenza le criticità legate alle strade di collegamento interno. Numerosi problemi alla viabilità già segnalati dal settore infrastrutture stradali dell'ex provincia di Agrigento in seguito alla forte perturbazione che ha interessato tutto l'Agrigentino. I comparti est e ovest sono quelli che hanno presentato i maggiori problemi, in particolare nel Riberese, sulla provinciale 61, Moldallegro-Ribera e sulla 30, Cattoli Caraclea, Stadale 115, Rovine di Ereclea-Minoa dove sono stati segnalati allagamenti nella sede stradale in più punti con rischio di acquaplaning per gli automobilisti e abbondante presenza di fango e detriti. Nella stessa zona è stato consigliato di evitare il tracciato della consortile 19, Strasatto, Piano Povero, se non per effettive necessità. Personale stradale all'opera anche sulla provinciale 10, Sciacca-Saninella, sulla consortile 9, Pantaliano-Scunchipiano, sulla 29, Cattoli Caraclea-Montallegro, la provinciale 87, Montallegro-Bovomarina, nelle quali è stata segnalata presenza di fango sulla carreggiata. Notevoli danni anche nel comparto orientale con allegamenti e cadute di fango e detriti in tutto elicatese, in particolare sulla provinciale Licata-Ravanusa, già parzialmente chiusa al traffico da qualche tempo, sulla 10, Cianciaramito, sulla 53, 63, in territorio di Campobello-Dilicata e sulla numero 60, Naro-Figotto. In particolare è stata raccomandata la massima prudenza e rigoroso rispetto dei limiti di velocità imposti con le varie ordinanze a causa del manto stradale fortemente dissestato in prossimità delle pendenze più accentuate e il rischio di slittamento dei veicoli. Il personale stradale del libero consorzio ha lavorato per liberare la carreggiata della strada provinciale 11 Licata-Riesi, che nelle prime ore del mattino è stata letteralmente invasa da buona parte del tracciato da fango e detriti rocciosi provenienti dai terreni adiacenti alla sede stradale e interessati da coltivazioni intensive. In azione è un bobcat che ha ripristinato il transito, rimuovendo il materiale presente sulla strada, in particolare in prossimità degli accessi privati e delle intersezioni con diverse strade interpoderali per consentire il passaggio dei vari mezzi.